In ogni gara c'è un obiettivo da raggiungere, in questo caso dovrai conquistare almeno il terzo posto per qualificarti, seleziona inizia la gara per cominciare. Puoi modificare tutte le impostazioni degli aiuti alla guida per gareggiare secondo il tuo stile personale, se decidi di rimuovere gli aiuti alla guida sarà più difficile controllare la vettura, ma riceverai ricompense più ricche nelle gare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.